Giunta Tarasconi nel mirino dell'opposizione, la sferzata oggi in consiglio comunale a Piacenza è arrivata da Massimo Trespidi, esponente di minoranza in quota Barbieri Liberi, che ha chiesto provocatoriamente di cosa si occupi l'assessore Serena Groppelli perché, pur avendo la delega all'ambiente, il piano del verde pubblico e il biciplan sono stati portati in aula da altri colleghi. C'è un problema politico, ci sono assessori di questa giunta che dopo diversi mesi non sono percepiti per la loro attività amministrativa. È una questione politica che va messa a tema non solo l'assessore Groppelli ma anche altri assessori. Pronta la replica del sindaco Katia Tarasconi che ha ribattuto come l'assessore Groppelli si occupi ad esempio delle comunità energetiche per quanto riguarda l'ambiente, senza dimenticare la partecipazione attraverso i nuovi laboratori di quartiere o le pari opportunità. La giunta, ha sottolineato Tarasconi, è basata su un intenso lavoro di squadra. Gli assessori collaborano tra loro, ognuno dà il proprio contributo nei vari percorsi, ha concluso il sindaco. Il botte e risposta si è verificato oggi in Consiglio Comunale, a margine del dibattito sul biciplan, il piano strategico per la mobilità ciclistica redatto dalla società privata TRT che ha approdato oggi nell'emiciclo di Palazzo Mercanti al termine della fase dedicata alle osservazioni o controdeduzioni presentate da cittadini e associazioni. Suggerisco di fare una pianificazione delle rastrelliere, nel senso che tante persone vorrebbero utilizzare la bicicletta, poi arrivano in centro e hanno il problema di dove poter posizionare le bici. Ci sono anche lamentele da parte dei proprietari di immobili che dopo aver fatto ristrutturare lamentano di avere queste biciclette che sono appoggiate ai loro muri. L'amministrazione comunale allestirà un ufficio dedicato alle due ruote per intercettare i bandi ha annunciato l'assessore alla mobilità sostenibile Adriana Fantini. L'obiettivo del biciplan adottato dall'ex Giunta Barbieri è arrivato alla fase conclusiva dell'Iter e ambizioso portare la rete delle piste ciclabili dagli attuali 86,5 a 230 chilometri nell'arco dei prossimi dieci anni per un costo complessivo delle opere che viene stimato in oltre 26 milioni di euro. Matteo Anelli di Piacenza Coraggiosa ha chiesto di installare una segnaletica ad hoc per ricordare agli automobilisti di mantenere una distanza minima dai ciclisti. Sensibilizzare gli automobilisti rispetto alle distanze di sorpasso dei ciclisti è fondamentale per prevenire e comunque limitare gli incidenti. Caterina Pagani di Piacenza Oltre ha posto l'attenzione proprio sulla necessità di ridurre l'incidentalità. La messa a punto di strade ciclabili di vario tipo più sicure, la separazione il più possibile, c'è una serie di investimenti necessari per separare almeno lungo le radiali principali le sedi della solo ciclabilità rispetto ai percorsi automobilistici. Attenzione però a non svantaggiare chi si muove in auto ha ammonito Filiberto Puzzu dei liberali.